Ben trovati a voi tutti, eccoci al nostro appuntamento con la rubrica Insieme. Quest'oggi parliamo di un'iniziativa capace di coniugare spiritualità e cultura e lo facciamo grazie all'ospite che è venuto a trovarci. Saluto e ringrazio Stefano Casagrande, presidente dell'associazione Belluno la Notte. Ben trovato Stefano. Buongiorno, grazie dell'ospitalità. Grazie del tempo che ci dedica perché ritorna venerdì 7 giugno la edizione, la nonna ormai, di La Lunga Notte delle Chiese. Ecco, ci racconta Stefano che cos'è innanzitutto questa iniziativa e come anche si è evoluta e cresciuta nel tempo. Bene, grazie dell'ospitalità innanzitutto. La Lunga Notte delle Chiese è nata nella diocese di Bruno Feltre nel 2016, quindi siamo quasi al decennale. E' nata come esperimento, diciamo così, su anche imitazione di un modello nato in Austria molti anni fa, dove si sviluppa ormai da parecchi anni, dove viene convolta l'intera nazione. Lì ci sono oltre 700 chiese che partecipano. Quell'anno, nel 2016, decisi così di proporre alla nostra diocesi questo esperimento, di provare a organizzare anche noi questa edizione, chiamiamola Zero, e organizziamo una serie di concerti, di iniziative, visite guidate, esperienze per i bambini e quell'anno fu talmente un successo nelle quattro chiese del centro che mi ricordo che addirittura i preti non riuscivano a mandare via la gente e quindi questa esperienza, col successo che ha avuto, abbiamo iniziato a ripeterla poi anno dopo anno. In realtà poi anche ha preso il largo perché dopo la presenza positiva del 2016 cominciai a parlarne anche con le diocesi limitrofe e è diventato ormai un evento nazionale, si svolge in moltissime chiese in tutta Italia, sono circa 200 quest'anno le partecipazioni, per cui quello che organizziamo sono concerti, visite guidate, esperienze per i bambini e le chiese che parteciperanno specificatamente a Belluno, la diocesi di Belluno-Feltre, sono quelle del centro, Santo Stefano, Loreto, la chiesa del Duomo, la Cripta, San Pietro, San Giuseppe che sta a Borgopra e poi parteciperà anche Cortina, ma lo farà il 6 giugno, quindi abbiamo queste due date che rappresentano la nostra diocesi. E poi c'è anche la Certosa di Vedana, se non sbaglio. E la Certosa di Vedana, dov'è che è un luogo molto mistico e molto particolare che appunto farà un programma più legato alle meditazioni, quindi ci sta, nel senso che il luogo secondo me trasmette proprio questo. Ecco, lei diceva che è un evento che è arrivato di portata nazionale anche all'attenzione del Santo Padre. Sì, in maniera inaspettata, un paio di anni fa comunicando e lavorando appunto con tutte queste diocesi in Italia si è accesa forse una campanella, per così dire, e il Papa attraverso il linguaggio digitale, perché così era stato pensato, ha fatto questi tweet l'anno scorso e l'anno prima raccontando dell'esperienza della lunga notte e invitando quindi a partecipare. Quindi sono rimasto molto contento perché appunto probabilmente è arrivata fin là, nel cuore di Roma. Ecco, questa è un'iniziativa, diciamo, che va avanti anche grazie all'aiuto, penso, delle persone, dei volontari, comunque delle comunità, delle differenti parrocchie che ci mettono anima e cuore, vero, per invitare le persone per partecipare. Ecco, noi stiamo tra l'altro vedendo, mentre parliamo con lei Stefano, quello che è il sito, la pagina Facebook, i social, proprio che raccontano come a livello nazionale si svolga questa iniziativa. Sì, esatto, questo evento sta in piedi, ecco, diciamo, proprio grazie a tutto l'aiuto che arriva dalle comunità. Di fatto la lunga notte delle chiese mette in campo la comunità e vuole essere un luogo di ritrovo, questo evento per il territorio, per le comunità che gravitano attorno alle chiese. Quindi poi gli eventi vengono organizzati di fatto proprio dal territorio stesso. Non ci sono particolari vincoli che noi diamo in merito a cosa organizzare, proprio per far sì che i territori si sentano liberi di esprimere la loro particolare, magari, attitudine. È un evento che punta ad avvicinare, anzi, diciamo, a riavvicinare la gente alla chiesa e alla spiritualità, che purtroppo, credo, oggi noi confondiamo alle volte con la meditazione. Invece meditazione e spiritualità sono due cose differenti, no? E quindi questo evento punta così a ripopolare questi luoghi, portando la gente magari a fare anche, attraverso il linguaggio della musica, dell'arte, della cultura, a riflettere. Poi ognuno è libero di raccogliere il messaggio che vuole, insomma. Ecco, grazie all'aiuto di Simone Regia. Possiamo vedere magari la locandina sul retro, così vediamo anche il programma specifico di Belluno. Ecco, questo è il fronte, questo è il retro. Ci diceva, alcuni momenti, insomma, toccheranno davvero tante chiese locali e la partecipazione è anche l'occasione per le associazioni di farsi ulteriormente conoscere, cioè anche la valorizzazione dei nostri talenti. Esatto. È capitato, spesso capita e quasi sempre, che a partecipare siano magari appunto anche associazioni locali e che coinvolgano questa associazione anche i ragazzi, i giovani, lo fa per esempio la scuola Miari, lo fanno anche l'associazione Miari. Quindi è così anche il tentativo di attivare una comunità che spesso è viva e spesso magari non trova spazi dove potersi esibire. Ecco, quindi questo è proprio anche l'invito magari a tante associazioni che magari non conoscono ancora l'iniziativa proprio di proporsi, magari ormai l'anno prossimo, la decima edizione, perché può essere l'occasione proprio per portare magari nuove esperienze, nuovi ragazzi ad esibirsi magari per la prima volta. Anche perché immagino, essendo l'edizione numero 10, avrà in mente qualche sorpresa per tutti noi, vero Casa Grande? Un po' alla volta. Senta, questi eventi sono liberi, gratuiti? Si può partecipare? Come funziona anche per l'iscrizione? Allora, sono tutti liberi, gratuiti. Abbiamo fatto vedere il volantino, ma appunto attraverso il sito internet lunganottedellechiese.com si può vedere il programma specifico con orari di inizio, di fine, i luoghi. Ecco, abbiamo l'immagine anche del sito proprio che ci ritrae, ci raffigura le chiese. Ecco, questo è proprio il programma bellunese. Prego Stefano. Sono molte chiese, come abbiamo detto prima, in centro a Belluno c'è il Duomo, la Cripta, c'è Santo Stefano, c'è San Pietro, c'è la Certoia di Vedana ovviamente e poi c'è Loreto. Quindi ogni chiesa ha il suo programma, si può entrare nel sito molto comodamente, si possono appunto vedere già i programmi e gli orari di inizio e di fine e l'invito è quello di, siccome gli eventi abbiamo cercato di spalmarli un po' in tutta la serata, quindi a cominciare dalle 18.30 fino circa alle 11.00 si può, appunto guardando il programma, girare il centro e appunto visitare le diverse chiese e appunto ascoltare le varie performance che sono organizzate. Quindi un evento pensato anche per i turisti, insomma adesso siamo del meteo un po' ballerino e ci fa qualche scherzetto, però in città... Esatto, le chiese sono chiese, è coperto, per cui non ci si bagna e sono giuste. Ecco, ricordiamo Casa Grande anche che questa iniziativa gode del patrocinio degli enti, no? Esatto. La Regione Veneto. La Regione Veneto, il Comune di Belluno, diciamo che poi anche il patrocino più nazionale, quello del di Castero della Cultura e dell'Educazione del Vaticano, perché come dicevo prima, negli ultimi anni anche gli enti centrali, quindi della chiesa, hanno cominciato ad avvicinarsi a questa iniziativa, a cercare di capirla e anche di metterla anche un po' in evidenza attraverso i loro media. Quindi questo ci fa piacere perché appunto spesso capita le volte che queste iniziative vengano un po' fraintese, no? La gente si chiede, non tutti fortunatamente, ma com'è possibile che si organizzino i concerti nelle chiese. In realtà, come ho detto prima, il fine non è quello di organizzare un evento, una festa, ma è appunto quello di utilizzare il linguaggio, diciamo, della musica, dell'arte e della cultura per far arrivare un messaggio di riflessione. Bene, allora noi abbiamo fatto una veloce carrellata con l'organizzatore, il presidente dell'Associazione Belluno alla Notte su questa iniziativa, in programma il prossimo 7 giugno. Naturalmente l'invito è di partecipare in modo da vivere questa bella emozione, questa esperienza in prima persona. Grazie Stefano Casagrande. Grazie a voi. E a tutti quanti voi, buona continuazione d'ascolto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.